Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, in A11 in direzione Pisa ci sono rallentamenti tra Firenze e Peretola e Sesto Fiorentino per incidente, sulla FIPILIC in direzione Mare e Code per lavori tra Montopoli, Valtarno e Ponte del Est, sulla Statale 62 della Cisa rallentamenti per un senso unico alternato tra Villafranca in Luligiana e Pontremoli in A1 veicolo in panne tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, su raccordo Siena-Firenze fare attenzione per scambio di carreggiata per lavori in vari punti in entrambe le direzioni sulla Statale 1 Aurelia senso unico alternato per lavori tra Ortonovo e Sarzana Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!